Oroscopo e classifica a mezzogiorno in famiglia, previsioni Paolo Fox Mezzogiorno in famiglia, l'oroscopo e la classifica di Paolo Fox. L'oroscopo di Paolo Fox ha a mezzogiorno con le previsioni settimanali e la classifica dei 12 segni zodiacali. Al dodicesimo posto il segno dello Scorpione, che è una rielaborazione di ciò che stanno facendo. Da domenica Mercurio sarà dissonante. Sono un po' stanchi e agitati, dovranno compiere delle scelte importanti. E un anno protetto da Giove. Lunedì e martedì si sentiranno pressati. Non è il momento giusto per fare passi falsi nella sfera economica. Prudenza sul lavoro. È difficile arrivare a destinazione. Mercoledì e giovedì giornate protette. All'undicesimo posto il segno del sagittario, in autunno vivranno benissimo, avranno grandi occasioni, per ora si naviga a vista. Vi sono trattative che non si sbloccano. . Tra mercoledì e venerdì è meglio fare buon viso a cattivo gioco. Non devono perdere l'energia che li contraddistinguono. . Curarsi di più del partner. Sabato e domenica giornate buone. . Al decimo posto il segno della bilancia, dopo due settimane di forza sono tornati ad assillare il partner con mille dubbi. . Stanno vivendo una fase di transizione con mille insicurezze. . Tra venerdì e domenica attenzione agli scontri con qualcuno. Al nono posto il segno dei gemelli, negli ultimi giorni può darsi che qualcuno abbia fatto qualcosa di bello. . Tra lunedì e martedì saranno presi da tante cose. Pausa e tensione tra mercoledì e venerdì. . . Le compagnie vanno selezionate, non va bene essere amici di tutti. . I vecchi amori sono protetti a differenza dei nuovi. Paolo Fox, oroscopo a mezzogiorno in famiglia, previsioni settimanali. . Paolo Fox vela l'oroscopo della settimana e la classifica a mezzogiorno in famiglia. . All'ottavo posto il segno del cancro, si apre un cielo molto importante. . . Qualcosa si muove, soprattutto dal 14 maggio, per chi ha un'attività improprio. . . Ricevono offerte di lavoro pesanti, faticose, che vanno comunque accettate. . . Tra giugno e agosto le storie d'amore potrebbero evolversi ulteriormente. . . Tra venerdì e domenica alterco in famiglia. . . Al settimo posto il segno dell'acquario, che è la presenza di urano molto vicina. . Porta trasformazioni lavorative o anche in famiglia. . Sono un po' più arrabbiati, vorrebbero l'indipendenza. . . Tra venerdì e domenica bel cielo per i sentimenti. . Al sesto posto il segno dei pesci, bella capacità di guardare al futuro. Sono sempre alla ricerca di simboli e, o segnali. . . Dal 14 maggio potrebbero avere delle opportunità in più. . E' importante ritrovare se stessi. . . Al quinto posto il segno della Vergine, dal 13 maggio il loro atteggiamento razionale potrà aiutarli. . . Giovedì un po' giù, grande recupero la domenica. . . L'oroscopo settimana di Paolo Fox, 6 maggio, classifica a mezzogiorno in famiglia. . . A mezzogiorno in famiglia la classifica di Paolo Fox e l'oroscopo settimanale. . . Al quarto posto il segno del leone, tra venerdì e domenica Grande Cielo. . Sono in una condizione di ascolto. . Discussioni in famiglia per l'asciti. . . In amore potranno recuperare. . Al terzo posto il segno del toro, da domenica Mercurio nel segno. . Ottimo Saturno. . . È un anno importante perché Urano entrerà nel segno e rivoluzionerà le loro vite. . Molto importante il weekend. . Al secondo posto il segno della riete, trasformazioni. . . Tra venerdì e domenica luna nel segno, potranno dichiararsi. . Il lavoro resta faticoso. . Può succedere di tutto, weekend passionale. . . Al primo posto il segno del capricorno, è il loro anno, devono solo pazientare. . Ora sono molto più forti. . . Nei rapporti di lavoro ottime le giornate di mercoledì e giovedì. . . . . . . . . Grazie a tutti.